La CGL sceglie la città di Lecce per la terza edizione delle giornate del lavoro, tradizionale appuntamento della CGL nazionale, che quest'anno si svolge dal 27 al 29 maggio. Si parla di lavoro, tema essenziale nelle condizioni attuali del mezzogiorno. Onorati di essere qui per queste tre giorni di dialogo e confronto con i protagonisti della vita politica, economica, sociale e culturale di questa regione e di questo Paese e dell'Europa, ha detto Nino Baisotto, segretario della CGL nazionale. I temi delle giornate del lavoro sono fortemente legate alla realtà del Paese, ai problemi che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare al fianco delle persone. La vera svolta, ha aggiunto il segretario della CGL, si avrà soltanto nel momento in cui il lavoro tornerà ad essere considerato come risorsa per la crescita del Paese, a partire proprio dal Sud, tema incredibilmente scomparso dall'agenda politica nazionale. Se vogliamo mettere in campo politiche che contrastano le logiche della precarietà e le loro degenerazioni come i voucher, vi invito a sottoscrivere i tre referendum della CGL. Ha aggiunto Pino Gesmundo, segretario generale della CGL Puglia. Le giornate del lavoro sono un'occasione importante per provare a dare un segnale forte alla Puglia e al Mezzogiorno. Tra le scelte fondamentali assunte dalla CGL nei congressi e nella conferenza di organizzazione, c'è quella di stare nel territorio, tra la gente, vicino ai problemi delle persone, dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati. Penso che questa sia l'occasione più importante che noi mettiamo in campo. Ringraziamenti all'amministrazione comunale e a tutte le autorità che hanno sostenuto la realizzazione dell'iniziativa, Regione Puglia, Provincia, Comune di Lecce, Prefettura, Arcivescovato di Lecce, anche da parte del segretario provinciale della CGL Lecce, Salvatore Arnesano. I diritti estesi a tutti i lavoratori sono il tema portante di questa grande iniziativa che noi siamo orgogliosi di ospitare, ha dichiarato Arnesano. La campagna che da mesi stiamo portando avanti in ogni territorio per sostenere la proposta di legge in iniziativa popolare della Carta dei Diritti Universali e per i tre quesiti referendari su voucher, appalti e tutela reintegratoria nel lavoro, porta con sé un messaggio rivoluzionario nella storia della lotta per i diritti del nostro sindacato. Partiamo da qui, da un territorio del Sud, dove spesso lavoro e diritti non vanno di pari passo per lanciare all'intero Paese questa fondamentale sfida per il futuro di tutti. Riteniamo a giusta ragione, ha dichiarato il vice sindaco di Lecce Gaetano Messuti, che sui temi del lavoro la politica non debba dividersi, anzi, soprattutto in un momento come questo è necessario che tutti remino nella stessa direzione. Nonostante i flebili segnali di ripresa dovuti ad un naturale, seppur lieve, risveglio dei mercati in seguito alla forte recessione, non c'è stato affatto il cambiamento epocale auspicato. Assistiamo invece, continua Messuti, ad una costante precarizzazione del lavoro che non risolve i problemi occupazionali e che allo stesso tempo non offre certezze ai cittadini. Basti pensare che in Puglia sono stati utilizzati ben 5 milioni di voucher, un dato di per sé emblematico. Per queste ragioni mi auguro che da Lecce possa partire un messaggio forte all'indirizzo del governo, a concluso Messuti, al fine di attuare politiche del lavoro innovative ed efficaci per il territorio meridionale e per il Salento. Dopo un inseguimento a 200 km orari sulla statale 16 tra Bari e Brindisi, la Guardia di Finanza ha arrestato questa mattina due pregiudicati che viaggiavano a bordo di una potente Audi A6, su cui trasportavano due Kalashnikov di fabbricazione sovietica, 92 cartucce calibro 7,62 da guerra e tre caricatori. A finire in manette due Brindisini, Giovanni Ciccarone di 48 anni e Carmelo Semerano di 55, con precedenti anche per reati di mafia. Dopo aver bloccato la vettura al termine dell'inseguimento, i finanzieri hanno proceduto ad un controllo del mezzo, scoprendo in uno scatolone un compressore al cui interno erano nascoste le armi. I due, inoltre, avevano 3.000 euro in contanti, di cui non hanno saputo fornire una valida giustificazione. I due pregiudicati sono stati quindi arrestati e associati alla casa circondariale di Brindisi, mentre l'armamento da guerra, l'auto e il contante sono stati posti sotto sequestro. Proseguono le investigazioni per individuare l'area di destinazione delle armi. L'operazione di oggi rientra nell'ambito di un mirato dispositivo finalizzato a intensificare l'azione di contrasto ai fenomeni criminosi nel territorio della provincia di Bari. Maltrattamenti in famiglia, anche in presenza dei figli minori, violenza privata e violazione di domicilio. Sono queste le accuse nei confronti di un 37enne di Ugento, finito in manetta per stalking nel pomeriggio di ieri. Gli agenti di polizia del commissariato di Taurisano, infatti, erano intervenuti dopo l'ennesima segnalazione da parte dell'ex moglie dell'uomo che ha denunciato i presunti maltrattamenti. La donna avrebbe segnalato atti di violenza fisica ma anche psicologica da parte dell'ex. Il GIP del Tribunale di Lecce, Carlo Cazzella, lo scorso 24 maggio per questi motivi ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 37enne. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe seguito la ex moglie e appostandosi nei pressi dei luoghi da lei frequentati, l'avrebbe offesa e umiliata in numerose circostanze, minacciandola di morte in più occasioni. Più volte l'avrebbe aggredita fisicamente, tanto da procurarle lesioni alla presenza dei figli piccoli. La situazione poi è degenerata quando il 37enne ha fatto irruzione in casa della vittima, rimanendovi contro la volontà di quest'ultima. I comportamenti assunti dall'uomo, nonostante il divieto di avvicinamento alla casa della malcapitata a partire da settembre del 2015 da parte del Tribunale Civile, hanno generato nella donna un grave e perdurante stato d'ansia, ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria dimora, con prescrizione di non allontanarsi senza preventiva autorizzazione e non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o convivono, neppure a mezzo di telefono o in via telematica, in particolare con la ex moglie. Sì, al ritorno immediato del fuciliere di Marina, Salvatore Girone, la Corte Suprema di New Delhi ha accettato di rendere immediatamente esecutivo l'ordine del Tribunale Arbitrale Internazionale dell'AIA di far rientrare in Italia il fuciliere di Marina per tutta la durata del procedimento arbitrale. Girone potrà a fine prossimi giorni tornare in patria, rende noto la Farnesina, che accoglie con soddisfazione la decisione della Corte Suprema indiana. Il governo, si legge nella nota, nell'attesa di accogliere finalmente in patria Girone, rinnova l'impegno a conformarsi alle condizioni e modalità stabilite della Corte Suprema indiana. È un risultato importante che riconosce l'impegno intrapreso dal governo italiano con il ricorso all'arbitrato internazionale per far valere le ragioni dei due fucilieri di Marina. Con lo stesso impegno, l'Italia si presenterà ai prossimi passaggi previsti dal procedimento arbitrale. Confermiamo la nostra amicizia per l'India, il suo popolo, il suo governo e diamo il benvenuto al Marò Girone, che sarà con noi il 2 giugno, ha scritto il Premier Matteo Renzi in un tweet. Un cittadino che ha perso il lavoro o un giovane disoccupato che non ha mai lavorato possono ottenere un prestito, pur non avendo le garanzie richieste dalle banche? A chi possono chiedere un prestito agevolato per avviare una nuova attività? Come funziona il microcredito proposto dal Movimento 5 Stelle? È davvero realizzabile il progetto del reddito di cittadinanza? A che punto è la proposta di legge del Movimento per l'abolizione dei vitalizi ai politici pugliesi? Sono alcune delle domande che i candidati della lista Movimento 5 Stelle di Trepuzzi porranno ad Antonella Laricchia, consigliere regionale, portavoce del Movimento 5 Stelle in regione, sabato 28 maggio alle ore 18.30 in Largo Margherita a Trepuzzi. Con più di 15 milioni di stipendi restituiti dagli eletti del Movimento 5 Stelle, sono già state finanziate oltre mille imprese, generando oltre 2.500 posti di lavoro. Ad oggi il microcredito si avvale ormai di quasi 10.000 sportelli. A breve, l'ospedale Vito Fazzi di Lecce riavrà il suo pronto soccorso per bambini. La proposta di istituire un'area che permetta di svolgere una corretta azione di filtro, evitando inutili ricoveri, senza esporre il bambino ad una dimissione pregiudizievole del suo stato di salute, è partita dal primario di pediatria del Fazzi, Pietro Caprio. L'area accoglierà i pazienti che necessitano di una stabilizzazione clinica o di una definizione diagnostica per un periodo non superiore alle 24 ore. La funzione di osservazione breve, ricorda l'Associazione Salute Salento, era stata prevista dal Piano Sanitario Nazionale del 2005. Successivamente, nel 2008, la Regione ha individuato l'area adiacente all'attuale pronto soccorso, alle cui attività è funzionalmente legata. Nel febbraio del 2014 era stato fatto un primo tentativo di istituire un ambulatorio pediatrico dove i minori dovevano essere visitati da un pediatra ospedaliero. Purtroppo, la difficoltà di staccare un medico dalle corsie di pediatria per destinarlo solo ai piccoli pazienti del pronto soccorso si è rivelata da subito in presa difficile. Il progetto quindi era fallito, nonostante la dedizione del dottor Fraccella, che aveva reso l'ambulatorio a misura di bambino grazie ai disegni donati dagli artisti dell'Accademia di Belle Arti di Lecce. Oggi, il direttore generale Silvana Melli ha ridato corpo a quel progetto con l'obiettivo di filtrare e selezionare gli oltre 7.000 accessi diretti di pazienti pediatrici che si sono avuti al pronto soccorso dell'ospedale Leccese nel corso del 2015. Di queste consulenze pediatriche, circa 500 sono state trasformate in ricoveri e se si valuta la diagnosi delle dimissioni, il 20% poteva essere trattato in osservazione breve intensiva. La breve permanenza in ospedale attraverso un rapido percorso diagnostico-terapeutico allevia i disagi al bambino e alla famiglia, migliora le qualità delle cure e garantisce la continuità assistenziale dal momento che viene coinvolto il pediatra di famiglia per proseguire le cure e per i controlli successivi. Un arcobaleno di colori, insieme ai profumi delle campagne del Capodileuca, adorneranno anche quest'anno la strada principale di Patù, con delle vere e proprie opere d'arte religiose, pitturate con petali di fiori. La cittadina salentina si colora per il terzo anno consecutivo nella solennità del Corpus Domini con l'Infiorata, che per questa edizione rientrerà negli eventi del Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capodileuca dei Finibus Terre, un'area di oltre 700 metri quadrati, realizzati esclusivamente con soli fiori di campo, grazie ad un mese di preparazione, durante il quale negli 11 rioni di Patù oltre 400 persone hanno preparato i 22 quadri che nella notte tra il 28 e il 29 maggio prenderanno colore, aiutati anche dalle mani di turisti e amici simpatizzanti che vorranno dare il loro contributo. Il tema scelto per quest'anno da Don Luigi Marzo, parroco di San Michele Arcangelo e ideatore dell'Infiorata, e l'Exultet della Misericordia. Sabato sera alle 20 e 30 il Vescovo di Uggento, Santa Maria di Leuca, Monsignor Vito Angiuli, benedirà l'inizio dei lavori, mentre domenica mattina alle 8 e 30 benedirà l'Infiorata realizzata. L'Infiorata di Patù ha raggiunto in soli tre anni i livelli professionali, ricevendo l'apprezzamento degli organizzatori delle famose Infiorate di Noto, in provincia di Siracusa, e di Genzano, in provincia di Roma. Per le edizioni di quest'anno sarà presente anche l'Associazione Camperisti d'Italia e diversi gruppi organizzati. Tutto pronto per il terzo appuntamento con il Salone Internazionale dei Vini Rosati, Rosexpo, che si terrà dal 3 al 5 giugno a Lecce, nella storica e suggestiva location del Castello Carlo V, nel cuore della città. Si tratta del più importante appuntamento che la Puglia sancisce con il mondo del vino rosato, al quale hanno aderito moltissime aziende, per un totale di più di 150 etichette italiane e 50 straniere, che arrivano da ogni angolo del mondo, dal Cile alla Turchia, dal Portogallo alla Francia e così via. La manifestazione è organizzata da De Gusto Salento, associazione con i produttori del Negro Amaro, patrocinata dalla Regione Puglia e con il sostegno del Comune di Lecce, assessorato al marketing territoriale e della Regione Puglia, con le partnership di Slow Food Puglia, Slow Wine Italia, Asso Enologi di Puglia Basilicata e Calabria, Le Donne del Vino di Puglia e come partner tecnico l'Associazione Italiana Sommelier di Lecce. Novità di questa edizione è la collaborazione con Radici del Sud, una delle istituzioni più attive nella promozione della cultura enogastronomica e la città del gusto di Lecce. Partner tecnico il Concur Mondial de Bruxelles, che invierà una selezione di vini rosè tra spumanti e vini fermi. Rosexpo, salone internazionale dei vini rosati, è l'incontro tra i diversi territori vocati alla produzione di rosè, un racconto della tipologia, unico nel Sud Italia, in un mix di enologia, arte e cultura, per regalare un'esperienza a rosè indimenticabile. Rosexpo non è solo rosato, è lo spazio dove la cultura accoglie il suo pubblico con luci, suoni, tradizioni, opere d'arte, libri, aperitivi e proposte gourmet. Continua la preparazione del Lecce in vista della sfida per la gara di ritorno della semifinale play-off che domenica sera vedrà in campo allo stadio Zaccheria la compagine giallorossa e la formazione rossonera del Foggia. Nella giornata di ieri Capitan Papini e compagni hanno svolto una singola seduta presso lo stadio Via del Mare alla presenza di circa 300 tifosi che hanno incoraggiato la squadra a compiere l'impresa di ribaltare il 2-3 della partita di andata. Mister Braglia ha prima dato spazio ad una serie di esercitazioni atletiche per poi concludere la seduta con una partitella in famiglia e tornato ad allenarsi con il gruppo il difensore centrale Camisa mentre ha proseguito con il lavoro differenziato Gianluca Freddi. Intanto da ieri sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio Zaccheria. Ai supporter giallorossi sono stati destinati poco più di 1.500 tagliandi al costo di 10 euro. La vendita sarà vietata a chi non ha aderito al programma tessera del tifoso. Inoltre non sarà consentito l'acquisto presso i botteghini dello stadio il giorno della partita. Per oggi è prevista una singola seduta a porte chiuse alle 17 sempre al Via del Mare. Poi la squadra raggiungerà un albergo cittadino dove prenderà il via in ritiro. Per Foggia Lecce niente diretta TV. La Rai ha infatti preferito un altro palinsesto alla diretta televisiva della partita Foggia Lecce che invece sarà trasmessa solo indifferita a partire da mezzanotte e mezza su Rai Sport 1. Grazie a tutti !